Riguarderà 25.000 aziende artigiane e 75.000 lavoratori toscani il nuovo protocollo d'intesa sulla salute e la sicurezza sul lavoro sottoscritto fra l'INAIL regionale e il CPR a Toscana, ovvero il Comitato Paritetico per l'Artigianato, di cui fanno parte CNA Confartigianato, Casa Artigiani e CGL Cisle e Wille. Il nuovo protocollo rafforza la collaborazione fra il Comitato e l'INAIL. Ci sono delle buone prassi che possiamo mettere in campo, sviluppare un'attività che il CPR a sta facendo con gli RLST, che sono i rappresentanti della sicurezza territoriale dell'Artigianato, che consentirà sostanzialmente di rafforzare prevalentemente la prevenzione, che è l'elemento centrale per poter far sì che ci siano sempre meno infortuni sul lavoro. Gli interventi saranno definiti a seguito di un'analisi degli infortuni sul lavoro avvenuti negli ultimi anni. Per quanto riguarda gli infortuni, diciamo che purtroppo non siamo ancora in una fase di diminuzione e quello che è sicuramente molto incisivo ancora sono gli infortuni con l'utilizzo di determinati macchinari. Ecco perché bisognerebbe intervenire con una formazione mirata a monte, onde evitare questo ulteriore crollo di questi ultimi periodi. Nel 2022 i rappresentanti del CPR a Toscana hanno effettuato quasi 2000 sopralluoghi in aziende e sono stati consultati 1421 volte per i piani operativi per la sicurezza.